per il pagello io preferisco usare imbobina il dainima ho imbobinato il mio mulinello con 15 libri del wiper quattro capi colore grigio come potete vedere nel mulinello importante però uno spezzone di florine quei 5 o 6 metri 7 metri dipende anche dalla profondità sulla quale state pescando e comunque diciamo che un 5 metri di florine io oggi ho montato lo spray leader dello 0 33 e come parte ammortizzante perché ad esempio oggi con quella riccioletta che abbiamo rilasciato un minimo di elasticità se non fosse stata una ricciola poteva essere un pagello più grande un praio un orata quando si va a pescare a volentino non si sa mai che cosa si può incontrare quindi un minimo di elasticità ragazzi è fondamentale potete unire il nostro florine con il trecciato con un semplicissimo all bright con un nodo toni pegna ci sono tantissimi nodi con i quali possiamo unire il trecciato al florino